Vediamo che è già accesa, vediamo grande scena a fine partita, Seccia, il Pocio e Seccia che fanno i deficienti a fine partita. Premio condiviso subito da Seccia. Ha fatto un partitone, ha fatto un lavoro scuro incredibile, ha tolto palloni, ha recuperato tunnel, veramente un giocatore completo. Ragazzi, ora però devi fare la doccia separatamente. In qualità di capitano, per me la squadra ha giocato alla gara. Non ho capito perché vengono anche questi qua, vorrei fare due dediche, una al mio grande maestro che sicuramente non è il foncillo, un bacio a Roberto Jacobelli. Anche a me, Roberto. E il secondo lo dedichiamo a Nuna. Vai Robby. Ciao Nuna. Ciao Nuna. E a L2. Ciao L2. Ciao ragazzi, un bacione.